Nicola D'Arcangelo, allenatore del palla a mano Cinta Sant'Angelo, serie a due maschile. Siamo alla vigilia di una trasferta a Tafua contro l'Inter Scafati. Come affronterete questa trasferta? Sì, domenica andiamo a giurare contro l'Inter Scafati. Una scuola che di verità non conosciamo benissimo, però cercheremo di affrontarla sicuramente con la massima consapevolezza di fare il bene. La partita è importante perché è una partita che viene fuori casa, abbiamo qualche problema di formazione, però sicuramente è particolare a casa il risultato. Senti D'Arcangelo, queste pause durante il campionato, ogni 15 giorni, cosa ne pensi di questo modus operandi della federazione? Purtroppo il giorno ai nostri è composto solo c'è due squadre, una formula all'errozo e effettivamente il campionato è molto 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 spezzettato. Ovviamente non è facile da gestire, però devo dire che ho dei ragazzi fenomenali che comunque per non giocare tutte le settimane riesco a mantenere sempre la concentrazione alta e all'allenarsi con il massimo impegno e la massima intensità. Sostanzialmente saranno tre partiti elementari, unito e cinque, nella fase regolare, nella fase orologia. Stiamo preparando bene e cerchiamo di comunque mantenere alta sempre la concentrazione anche durante la settimana.